C'era la partita contro Real Madrid il mercoledì Ero contentissimo perché quando ero in Africa C'ho dei amici, quasi tutti i miei amici Sono tifosi di Real Madrid Allora per farti capire come era importante quella partita là C'è sempre il rimpianto Però invece di piangere Puoi imparare Le gente vedono solo quello che facciamo dentro il campo Però fuori ci sono E dite la verità Ha avuto un commento al coach Perché era un po' C'era un momento che La vita devi credere Devi avere pazienza Devi essere aperto Di imparare cose nuove Secondo me ero destinato Di aiutare questa famiglia Poi hai bisogno di gente accanto a te Che ti possono spingere Poi ero perso Ero perso Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo episodio Sul canale 1% Stasera Abbiamo la fortuna E anche l'onore Di poter intervistare Un ragazzo che non si fa mai intervistare Come mi hanno detto In anticipo Questo ragazzo Ha tanto talento Wow È Un giocatore Secondo me Per come sono fatto Che sono anche un portiere Veramente Veramente Dotato di qualità importanti Però forse la sua qualità Che io Di tutte apprezzo È che non perde mai il sorriso Infatti è esattamente questo Stasera abbiamo con noi Davide Okeke Ciao ragazzi Ciao Davide Grazie mille di essere qua con noi No grazie a voi Grazie a voi Allora Da un punto di vista calcistico Tutti quanti Comunque sanno Chi sei Sappiamo il tuo percorso Nasci in Nigeria Sei del 97 Sei un giovane ragazzo Che ha ancora tantissimo Da poter esprimere Nel mondo del calcio Vieni in Italia Quando hai 16 anni Fai tutta la tua strada Tra Spezia Il percorso è importante Il percorso è molto importante Ti va di raccontarci Il tuo percorso? Vabbè Sappiamo già tutto Dalla strada Serie D Serie C Serie B Poi di andare a giocare Anche in Belgio Ho fatto due anni là Poi di tornare in Italia Ci sono tanti lavoro dietro Però penso che L'unica cosa è che Non devi perdere la testa Devi concentrare su Quello che vuoi E dove vuoi arrivare E basta La cosa che Che mi ha colpito È che Nel tuo percorso Hai momenti di Salite e discese Salite e discese Perché tutti quanti Quando pensano al successo Pensano che sia una strada Comunque facile Vedono il giocatore Di Serie A Come quello che segna Quello che segna Contro l'Inter Quello che fa grandi gol Con acrobazia uniche La tua bellissima risultanza Che poi magari ci spiegherai Il perché Però non capisco che Dietro c'è un percorso Lungo Faticoso E anche doloroso Tra te Penso che nella vita Otre al lavoro che facciamo Devi avere le gente Accanto a te Che Che sanno le cose Che ti possono aiutare Anche nel momento Di difficoltà Allora ho avuto Fortuna di avere Le gente così Accanto a me Che mi hanno dato Alcuni consigli Di scendere categoria Per risalire Che ho fatto Perché mi ha aiutato Anche tanto Di capire certe cose Su calcio Perché Mettere giri Hai la fortuna Di lavorare Con tanti allenatori Più altri giocatori Di alto livello Che puoi imparare Anche con i vecchi Che ti aiutano Anche nel momento Di difficoltà E diciamo che Tutta sta cosa Mi ha aiutato tanto Perché Vabbè Io sono testardo Però Per il mio lavoro Non scherzo Apprezzo Ogni Ogni consiglio Che posso avere Poi Cerco sempre Di migliorarmi Bellissimo Davide si vede Io non ti conosco Però si vede Dalle prime parole Adesso mi conosci Adesso sì Adesso sì Però si vede Dalle prime parole Che hai detto Che sei umile Hai subito Riconosciuto il fatto Che sono state le persone Anche le persone Intorno a te Che ti hanno aiutato E quello è importante E come hai fatto A trovare queste persone Perché le persone Possono sia A peggiorarti Che migliorarti Nel tuo caso È una domanda Cacchio Posso dire Vabbè Su questo posso solo dire Che devi solo Seguire il cuore Perché alla fine Devi assumere La responsabilità Di ogni scelta Che fai Devi decidere Tu da solo Perché Alla fine La responsabilità È tua Non puoi dire Eh lui mi ha fatto Scegliere Questo No Tu parli Con le gente E poi Capisci quelli Che vuoi accanto a te Quelli che non vuoi Accanto a te Puoi avere meno amici Però È importante Avere quelli buoni Che Ti possono aiutare Diciamo che Dio Mi ha mandato Quelli giusti E Sono andato avanti Così E secondo te Si può andare avanti Cioè migliorare E raggiungere Proprio obiettivi Senza le persone Che ti aiutano Da soli No da soli No Da soli No puoi lavorare Quanto vuoi Però In questo lavoro Qua c'è Come si chiama C'è il momento Di difficoltà C'è su C'è giù C'è il momento Che sei alto Poi Succede tante cose Infortunio Che ti fa stare fuori Per tanto tempo Hai bisogno di gente Accanto a te Che ti possono Spingere Perché Oltre al lavoro Che fai Se non hai la testa Non puoi fare niente Le gente Tante cose Tante cose ancora Da migliorare Da solo Non ce la fai Quindi secondo te L'aspetto mentale È più importante Dell'aspetto fisico È fondamentale È fondamentale Puoi spingere Quanto vuoi Puoi fare tutte le cose Quanto vuoi Però Sai è come Quando sbagli un passaggio Certo Sbagli un'altra Sbagli la terza Poi la quarta Cosa vuoi fare Vuoi giocare semplice Se sbagli anche Quello semplice Cosa fai Se fuori Però quando sei forte Di testa Continua a provare Continua a provare Continua a provare Poi Dopo Prendi le cose bene È tutto di testa Non ti tocca È tutto di testa È che Molto spesso Specialmente i giovani Ok Parliamoci onestamente Sì sì I ragazzini Magari Un ragazzo di 13 14 anni Che guarda la Serie A E vede un giocatore di Serie A Lui vede soltanto Una parte del giocatore di Serie A Questo fa i dribbling Tira nel 7 Tipo il gol che ha fatto Con l'Inter Tutti Oh fantastico Ma non sanno Che dietro A quel tiro nel 7 Ci sono 70 tiri sbagliati Il giovedì C'è tanti C'è tanti prova Perché Come ho detto Ho avuto la fortuna Anche di andare A giocare in Belgio Dove Ho avuto Gli allenatori Che Mi hanno insegnato Anche tante volte Di non tirare forte Se tu mi vedi ancora Faccio ancora fatica A tirare forte Mi piace Tipo Sai quello che devi fare Però Per quello che dico C'è tante cose Anche da migliorare Cioè quindi È come se La preparazione Che tu fai prima Ti rendesse tutto più facile È in senso che C'è tipo come Deja vu Bravo Che sei già stato In senso che Sei già stato Esattamente Ci sono delle volte Che non lo prendi bene Poi ci sono delle volte Che lo prendi bene È come quando Lo fai anche Dopo allenamento Vero Che fai 150 tiri Non è che prendi 150 buona Ci sono quelli Che lo prendi male Ci sono quelli Che lo prendi bene Però Quando sei in certa situazione Sai già che Sono già stato In questa situazione E cosa ho fatto Ho tirato così Poi se lo prendi bene Bene Se lo prendi male A me c'è da Continuare a provare E E quando capita Che nella vita Stai provando tanto Per un qualcosa Che però È solo Dio Continua a provare Continua a provare Ma non arrivano i risultati Solo Dio Che ti può aiutare Solo Dio Perché nella vita Anche devi sempre credere Tutto Tutto non può andare Sempre bene Se no sarà facile Per tutti Ci sono Le momenti di difficoltà Però devi continuare A credere Se tu sai Dentro di te Che stai facendo Le cose giuste Che dai tutto Allora lascia tutto a Dio Fagli decidere Nel suo momento Non so se vedi Anche su Alcuni video Su internet No? Sì Che c'è uno che Non so come si chiama Ah picchietta Sì sì Che lo fa così Fa così Arriva a un certo punto Si gira E vedi quello lì Che già È appena iniziato E quello lì Già sta raccogliendo Delle cose Sì sì E cosa fa? Mola e va là E continua Non c'è neanche niente E uno viene da sua parte E fa Cioè è là Deve solo continuare Se tu pensi dentro di te Che una strada è giusto Sì Segui Segui Perché questo argomento Non riguarda soltanto il calcio Sì sì Questo argomento riguarda Tutti gli aspetti della vita Questo riguarda L'essere imprenditore Questo riguarda lo studio Questo riguarda persino Anche una relazione Ma guarda che anche Chi fa Chi fa business Quando inizia a investire Non è che subito guadagni Perdi un po' Perdi un po' Ci sono gente Che hanno Come si dice Iniziano qualcosa Poi guadagnano un po' All'inizio Poi dicono Non c'è Non c'è Lo vendono A un altro Quello subito lo prende Boom Invece di vendere Perché non Non vende Tipo percentuale Cose del genere No Bisogna avere anche pazienza Eh ma è bene Quello lì Deve avere anche Abbastanza Deve avere anche abbastanza Quanto la mentalità Dell'atleta Possa essere affine Alla mentalità Del businessman No devi Devi La vita Devi credere Devi avere pazienza Devi Devi essere aperto Di Di imparare cose nuove Secondo me Devi vivere la vita Però Anche se Se no Cosa facciamo Quando Non puoi più Fare certe cose Cosa fai Cacchio Quando ero giovane Potevo fare questo Farla adesso E stai zitto Quindi Cerchi Cerchi di vivere Una vita senza Rimpianti Non ti immagini Un futuro C'è sempre C'è sempre Rimpianti Però Invece di Di piangere Puoi imparare Tipo per dire Ogni anno che passa Tu dici Ah non ho fatto questo tiro Ah non ho fatto questo salto Ah sono andato molle qua Ah sono Ho fatto questo Ti fa Ti fa crescere L'anno prossimo Succede Qualcos'altro Tipo simile Non uguale Tu lo fai In modo diverso Quando ti sbagli Nella vita Secondo me Quando ti sbagli Nella vita Non è che Non è che ti sbagli Per sbagliare Ti sbagli Per imparare qualcosa Se un amore Non va bene Non è tuo Se un amico Ti lascia Non è tuo amico Se Se non stai più Con la tua ragazza E torni con lei È perché è tuo Oppure tu pensi Di essere tuo Poi dopo Ti lascia ancora Non è tuo Devi andare avanti È così È così Quindi da Ogni errore Si impara Qualcosa di nuovo Il fallimento È solo Qualcosa che ti aiuta A rialzarti Più forte Sapere cosa è sbagliata Secondo me Tutti che sono arrivati Già Su Hanno avuto Momenti Anche così Però Ci sono gente Veramente forte Di testa Davide Vorrei Farti questa domanda Senza entrare Troppo nei dettagli Ma ti va di raccontarci Un momento Dove C'è stata questa caduta Un errore Un fallimento Cosa ti ha aiutato A rialzarti Così Possiamo Imparare Dalla tua storia Da quello che hai fatto Ci sono due cose Che sono state Veramente Nella mia testa Però Sono sempre Di mio lavoro Allora Sono andato In una squadra E Mi hanno promesso Di fare contratto E Dopo un mese Niente Due mesi Niente Allora Il terzo mese Sono andato a parlare Ho detto Ma scusa Mi hai detto Che quando venivo qua Mi facevi contratto E Mi fa Sì Te lo faccio Facciamo tipo A A giugno Ho detto Però non era quello Che mi avete detto E fa Eh sì Lo so Però ci sono Delle cose Da fare prima Allora sono andato A quello lì Con cui C'ho confidenza Di parlare Sono andato da lui E Gli ho detto Guarda Mi avete detto questo E questo qua Mi sta dicendo E poi lui mi fa Guarda che nessuno Ti regala niente Qual giorno Dovevo allenare Ho detto di no Che non mi alleno E sono andato in tribuna Guardando allenamento Allora da lì Ho iniziato a piangere Ho pianto quel giorno Per Non lo so Quasi tutto L'allenamento Ho pianto Poi da lì Ho capito che Veramente Nessuno ti regala niente Devi Veramente Lavorare Per Avere tutto Quello è uno Poi la seconda Ero un po' Cresciuto E Sono andato Ero in Belgio C'era la partita Contro Real Madrid Il mercoledì A Santiago Benabau Ero contentissimo Perché Quando ero in Africa C'ho dei amici Quasi tutti i miei amici Sono tifosi di Real Madrid Allora Per farti capire Com'era importante Quella partita La La partita Prima Il domenica Non volevo giocare Perché dico No Non voglio giocare Questo Perché voglio giocare Il weekend Però non sono I mister Non posso decidere io Se gioco O non gioco E Il mister mi ha messo Non ero pronto Di testa Non ero pronto Sono andato a quella partita Con la testa sbagliata Ho fatto Malissimo Che veramente Non meritavo Neanche di giocare Mercoledì Però Dentro di me Dico Va bene C'ho tre giorni Poi c'è la partita Allora Quei tre giorni Ho spinto Ho fatto tutto Ero il migliore In campo Tutto Tutta quella Quel tempo là Per arrivare alla partita Poi sempre Quando c'è Champions League Facciamo un allenamento Prima della partita Quello L'allenamento Mamma Ho dato tutto Ho dato tutto Tutti pensano No no Tu giochi domani Sicuramente Perché con me Sei carico Giochi Siamo arrivati lì E mister mi ha chiamato Prima della partita Sai Quando mister ti chiama Prima della partita Pensi che Ti vuole dire Qualche Cosa da fare Durante la partita Sono arrivato là E lui Ha iniziato con Ecco Sta partita Abbiamo bisogno Di caratteristiche diverse Già ho già capito Che E mi fa Oggi non ti faccio giocare Sei in tribuna Non ci credo Ho iniziato a piangere subito Perché Era una partita che Da quando Da quando hanno fatto Come si dice Dross In italiano Quando hanno fatto Quando hanno fatto Lista Lista L'invocazione Ero caratteristica Ero carichissimo Quando ho visto Dopo Dopo mi mettono in campo Ero perso Ero perso L'azione di questa è che Nella vita non puoi decidere tu tutto Mentre lavori sotto di qualcuno Devi capire che quello lì decide Tu devi sempre dare tutto Nel momento giusto Anche se vuoi Anche se non vuoi Devi dare tutto Solo quello Questa Questa lezione la possiamo tradurre in Tu dai il massimo Controlla quello che puoi controllare Nel resto L'altra cosa non puoi Non puoi controllare Non puoi controllare il fatto che ti convchi No Puoi solamente dare il massimo Però Nel bene e nel male Devi solo continuare a lavorare Nel bene e nel male Non è facile È più facile dirlo però Lui lo sa Lui lo sa Ti stai mettendo in mezzo No ma non ti sto mettendo in mezzo Però sto dicendo la verità Perché Io ti vedo Oltre a tutto che Che succede Sei sempre là Dai massimo Anche se Se meriti di più Tu sai di meritare di più Però Lo fai per te stesso Poi mi è successo anche un'altra Che A Spezia non giocavo Allenavo di merda E uno un giorno mi è venuto Mi fa Guarda che non fai Se alleni bene Fai per te Se negli male Fai per te Il mister non cambia niente Non fa male al mister Allora da lì ho detto Va bene Gioco o non gioco Continua a spingere Continua a spingere Poi un giorno tocca a te Di giocare Tu devi dare la stessa lezione A un altro Lo devi dire anche Fai bene Fai male Non fai niente al mister Tu devi dare al massimo Quello lì fa suo E dire Così andiamo tutti avanti Aiutiamo tanti Secondo me stai trattando Un argomento Che veramente Accomuna tantissime persone Unisce tantissime persone Sai perché? Perché molto spesso No? Le persone trovano la scusa Io non faccio questo Perché il mister non mi fa giocare Io non faccio questo Perché non ho l'investitore giusto Eh sì Io non faccio questo Perché Non ho le persone Che mi vogliono bene Che mi dicono bravo Quando faccio le cose bravo Amico mio Bene Come quando pensi male A una persona Se pensi male a uno Eh Torna a te Tu tu torni dietro Quindi credi tanto nella frase Eh ma frate Io credo a lavori Poi lasci tutto Tu tu torna No Lasci tutto Devi solo fare tuo Poi lascia Dio a decidere Io sono cresciuto in una famiglia Che crediamo tantissimo a Dio Perché Come dice sempre la mia mamma Che senza di te Non sappiamo dove siamo E io continuo a dire Secondo me Ero destinato di Aiutare questa famiglia Perché io se mi chiedi Per che motivo lavoro Io ti dico Per la mia famiglia Perché basta che loro stanno bene E io sto bene Non Non mi importa Qualcos'altro Otre a Adesso Però Prima dicevo Prima dicevo Se loro stanno bene Io sto bene Poi La mia mamma Che dice sempre Ma Senza di te Però dico Non c'era nessuno Che lavora a casa mia Perché io ho fermato tutti Perché dico Che senso ha Hanno Di andare a lavorare Per qualcuno Questo qua ti tratta di merda Ti parla di merda Ti parla Ti fa delle cose di merda Poi quanto ti dà Niente Più di quanto ti do a mese Allora stai a casa Io ti do a mese Qualcosa a mese Se tu hai qualche investimento da fare Vieni Parliamo E cerchiamo di investire Però se tu dici Che vuoi andare a lavorare Con Con qualcuno Che Non apprezza neanche quello che fai Allora per favore stai a casa Per favore Perché Penso che riesco a Grazie a Dio Riesco a Aiutare loro Se non lo sono felice Io Sono felicissimo La famiglia Volevi parlare di No 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 Per niente Anzi Anzi E che il suo discorso Mi sta toccando No continuo Continuo assolutamente Parlo Parlo Poi vorrei sentire anche Nato Parlo Parlo La famiglia ti ha motivato tantissimo In tutta la tua carriera È stata una delle Principali motivazioni Che ti hanno Rialzato Era una spinta in più Perché Io sento sempre Consiglio di mio fratello piccolo Anche Anche se sono più grande Però Prima di fare qualcosa Li chiamo prima E gli dico Guarda voglio fare questo Poi Lui mi fa Se lui è impegnato Mi fa Dai fammi pensare Poi va via Se è una cosa che lui Può decidere subito Mi dice subito E io subito Lo prendo Perché C'ha 22 anni Ok E io Lui è È il boss È il boss Io sono Come si dice Io sono quello che lavora E lui è quello che diverte Mamma mia Avrei una curiosità Perché Anche io mi sono trasferito In Italia Però Ci siamo trasferiti Per due motivi diversi Io mi sono trasferito qua Sette anni È molto più facile adattarsi Ma cosa significa Lasciare Casa tua La tua famiglia Il proprio continente Tutto Per trasferire in un paese Di cui non sai niente Hai visto soltanto i video E le foto su internet Forse Che sensazione è Lasciare tutto E cambiare completamente Eh ma non è Non è stato facile per niente Però È solo una cosa in testa Che l'unico sacrificio Che puoi fare Per aiutare la famiglia È la spinta in più Solo quello Perché mi ricordo Che vabbè Ho avuto anche la fortuna Di Di vivere con una famiglia Proprio bravissime Che mi hanno aiutato A fare tutto Eh Mi danno tutto quello Che volevo Ogni giorno piangevo I primi tre mesi Piangevo ogni sera Perché Era difficilissimo Non avevo telefono Però mi hanno dato telefono Dopo un mese Se mi ricordo bene O di meno Però L'unica cosa che Mi faceva Andare avanti È che Nella vita Qualcuno deve fare Qualche sacrificio Per Andare avanti Poi È la mia scelta Questa Di Perché dentro di me Era l'unico modo Che posso aiutare La famiglia Era l'unico modo Perché eravamo Messi male Non malissimo Però Male Allora Era la mia forza Quello Non è stato facile Per niente Perché la lingua Non capivo niente Era una cultura Diverso Cibo Diverso Però Avendo La famiglia In testa Mi ha aiutato Tantissimo Sai che cosa Mi ricorda La tua storia E Tu conosci la storia Di Cristiano Ronaldo No Quello Quello che hai detto Che ogni sera Ti chiudevi in camera Piangevi Mi ha ricordato Una frase Che ha detto Uguale a Cristiano Ronaldo Una frase difficile Lui lascia casa Verso 11 12 13 anni Da Madeira E va a Lisbona Per giocare Poi non potevo Neanche andare a casa Senza Permossi di soggiorno Mamma mia Quindi eri chiuso E ribocato Due anni Due anni Prima di tornare a casa Due anni Quindi avevi Una sola possibilità Avevi una sola soluzione Andare avanti Non potevi tornare In niente In una sola maniera Se torni dietro Se tornavo in Nigeria Non potevo Non potevo più Tornare in Italia Non c'erano più libbi Sì sì Era Non c'era Non esisteva E poi anche Dopo due anni Che volevo tornare a casa I miei mi dicevano Di non tornare Però loro Non sanno Quanto Certo È stata dura No no Subito Appena ho avuto La possibilità Di scendere Guardate Ho sceso subito Subito Si sente la mancanza di casa Cacchio Mamma mia All'inizio non era anche facile Scendendo ogni sei mesi Anche era difficile Perché poi da quando torni Già inizi a contare giorni Inizi già a contare giorni Tempo vuole Adesso sono abituato A scendere Sacrifici C'è fondamentale Qualcuno deve farlo Per me Però Come dicevo È tutto Destinato Se non facevo io Faceva qualcun altro Nella mia famiglia Sicuramente Non eravamo Secondo me Non eravamo destinato Di essere Quello che eravamo Prima Stavamo parlando Prima che Lui dice Che uno degli aspetti Che lo rende più felice È vedere le persone A cui vuoi bene Felice No frate Quando loro sono felice Io sono felicissimo Puoi fare La stessa cosa Dieci volte Dieci volte Che lo fai Che lo faccio Sono sempre felice Sai quando chiami Quando chiami Quando ti chiama Tua mamma Per esempio Che ti chiede qualcosa E poi tu lo fai Poi dopo lo chiami E vedi la sua faccia Prima può essere tipo così Poi dopo è così È diverso Ti dà una felicità Che So che puoi capire Potete capire Però È la sensazione No Non è uguale Non è come fare Felice a un amico È diverso Quando fai felice Alla famiglia È diverso Ma la famiglia vale Intendere come compagna O compagno Tutto La famiglia vale anche Alcuni amici Che sai veramente Che ti vogliono bene Che anche nel momento Di difficoltà Ci sono Che Tutti non sono così Nel momento di difficoltà E alcuni amici Che sono Sempre con te Non solo quando Le cose vanno bene Poi ci sono Poi ci sono quelli Amici di occasione Che sono quelli Che quando le cose va bene Sono amici Quando va male Spariscono Quelli sono famiglia Famiglia non è solo Di sangue È di Di modo di accettare Le cose anche Quando ti stanno vicino Quanto Quando capisci Quanto ti vogliono bene Che ti fanno capire Anche nel momento Di difficoltà Che ci sono O quando fai Una bruttissima partita Un amico ti chiama Guarda È una partita Lascia stare Puoi imparare da quello lì Dai guardiamo avanti Tutto quello lì Sono le spinte Che Che ti fa capire Anche che questo qua È più di un amico Non è quel che Non ti Non lo senti Fino a quando segni Quando segni Wow Che gol hai fatto Però quando fai una partita Di merda Non Non ci sono Quelli sono amici Di occasione Che consigli daresti Ad un ragazzo giovane Di 15 anni 16 anni 17 anni Anche di 20 Anche al punto Più grandi Sulla Sulla cerchia Che bisogna crearsi Sull'amicizia Come trovare Tu prima hai detto Lo senti dal cuore Ma ci sono state Delle cose Che ti hanno aiutato A capire Dei segnali Che hanno ti aiutato A capire Al di là Ovviamente Del sentimento Del cuore Se un'amicizia è sana O tossica Penso che Con i tempi Riescono a capire Non è una cosa Che si capisce subito Più passi i tempi Con gente Più capisci Che come sono Se tu stai con un amico Per due o tre anni Capisci che Un amico Non dico vero Però è uno Con cui puoi Contare su di lui Ogni tanto Poi quando più cresci Capisci che Capisci l'intenzione Sua Tipo Se io devo fare Una cosa importante E ti vengo a dire E perché Penso che Sei una famiglia Non sei più amico Però se tengo Da dove sono venuto Le cose belle Non si dice Le cose belle Lo tieni da solo Fino a quando Quando è il momento Che hai fatto tutto Poi va Ah scusa che non ti ho detto Perché era una cosa privata È un problema Quando uno è come te Capisci che Ah no Stai sereno Capito Però quando uno È il tuo amico E non l'hai detto Fatti due domande Ti fa cagare Ah sono io Il tuo problema Così Però Penso che Loro sono ancora giovani Dai Devono divertire Con chi sta Vicino adesso Poi in tempo Capiscono Che sono amici veri Ah ma spesso Gli amici Li capisci Tutti quanti Pensano che Gli amici Si cominciano Ad avere 12-13 anni Siano gli stessi Per tutta la vita Oppure Quelli 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 con cui vai a scuola Alle superiori Dici Molto spesso Gli amici li trovi a 40 anni Anche 35 Anche 50 anni Perché più vai avanti Più conosci Più conosci la gente Poi Quelli che tu pensi Che è importante per te Ottieni Bravo Giusto Poi quello che pensi Che non Perché ogni migliore amico Ciao Migliore amico Allora cosa siamo Se tu sei Il mio migliore amico E lui è tuo migliore amico Cosa sono Possiamo avere Quattro migliore amici Wow Festa No C'è solo un migliore amico Non esiste un altro Un altro può essere Tuo amico Normale Perché se io ti dico Perché sei il mio migliore amico E tu vai a dire a lui Perché è tuo migliore amico E lui vai a dire a un altro Perché è suo migliore amico Così andiamo Ciu 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 Qua stiamo parlando di fiducia Eh Uguale Cos'è amicizia Se non c'è la fiducia Assolutamente Assolutamente Quello Se dovessimo definire l'amicizia Con tre punti Ok Abbiamo detto fiducia Secondo me un altro punto è Un amico è quella persona Che quando Gli o le racconti Una cosa bella di te È felice insieme a te Non ti diminuisce Il momento E non vuole Mettere se stesso davanti Non dice mai Anch'io Festeggia con te E poi dice Sai che anch'io Però ci sono molte persone Che quando tu gli racconti Una bella cosa Sai che Ho intenzione di cambiare lavoro Mi voglio Mi hanno assunto In questo nuovo In questa nuova azienda E dice Sai che anch'io Oggi ho fatto questo No Non ho chiesto a te Ti sto condivendo con te Poi Sono pronto ad ascoltarti Però molte persone Fingono di essere Amico tuo Ma lo capisci solo Quando tu hai una cosa bella Loro non hanno una cosa bella E dipende alla Dipende alla Dipende anche al momento Se uno Non è In giornata Di Forse ha avuto Problema Suo È difficile Festeggiare con te Festeggia con te Quando è un vero amico Però Quelli che Vabbè Sono felice con te Però hanno Il loro problema Certo E quello che dico Dobbiamo solo capire Il momento Perché se tu Fai le tue cose Perché tu pensi Che per te È vero Beh Io devo accettare Se sono tuo amico Devo accettare Ci sono Ci sono vere cose Per decidere Un amico vero Ce ne sono tante Sicuramente Sicuramente Però sai cos'è È che Tu hai detto molto bene Magari tu Quando sei a 40 50 anni Si impara Conosce molto meglio le persone Ma un ragazzo Magari di 20 anni Che ricerca Che si sente solo E vuole un amico Secondo me Ha bisogno Di detenere così Trovi quello sbagliato Sicuramente Bravissimo Se lo cerchi Lo trovi sbagliato Deve essere una cosa che Tipo vedi gente Tipo Può essere che vicino a te Mi sento proprio Tranquillo Ok Poi da primo giorno Ti posso raccontare Già tutto Da primo giorno È perché mi sento Proprio bene Vicino a te Mi sento che sei una Bravissima persona Ti posso dire tutto Già Perché penso che Tu mi vuoi Tipo per come parlo con te Capisco già Che tipo di persona sei Poi ci sono quelli che Che sono cresciuti con te Però non hai questa Connessione Connessione con loro Hai solo quel Connessione di dire Dai andiamo a mangiare qualcosa Cosa fai stasera Vuoi andare qua Che non hai da fare Però Vuoi uscire Allora chiedi a loro Possiamo uscire Ci sono quelli che Le cose importanti Le fate insieme Vero Perché tu capisci Che questo qua È un Amico vero Non è un amico Di occasione Come ho detto Ci sono È la verità C'è un amico Che Vabbè lui Sarà sempre Anche se Mi dispiace Perché lui Non ha Un lavoro Che fa Però È un vero amico Perché Nel bene Nel male C'è Né pioggia Né fuoco C'è Se sono in Non so dove Se sono in In Nigeria Voglio fare Qualcosa a Roma Che è lontano Da qua Basta chiamarlo Fa tutto Anche senza Stensati Fa tutto Se Dei Però Mi dispiace Che non c'è Niente da fare Però è un Un vero amico Un vero amico Non li ho mai detto Però Non gliel'hai mai detto In faccia No 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 Perché Non li posso dire Però so che Se Devo contare Su qualcuno C'è sempre lui La vera amicizia Sono Le persone Che ti circondano Che sono sempre presenti Soprattutto nei momenti Down Nei momenti Dove Nei momenti di difficoltà Nei momenti in cui hai bisogno Ti parlo poi L'esperienza personale Io ne ho avute Tante di persone così Che però Ti influenzano Negativamente Magari È sempre presente Magari è sempre lì Che ti aiuta Però ha una mentalità Che non ti fa bene Non ti dà dei consigli buoni Ha delle brutte abitudini Tu pensi che comunque Con questo tipo di persone Bisogna Rimanere amici Io non ho mai avuto Una cosa del genere Però è difficile Questa domanda Perché Se uno ti porta Nella brutta strada Se tu Continui a seguire Senza Sapere da solo Che è una strada Che non va per te Allora È da staccare Tipo se tu Sei un calciatore E sei un amico Di un PR Di Di un pub Di un discoteca E cosa fai? Lui Sistema sempre serate E tu devi andare Ogni giorno A fare la serata Sai che di mattina Devi allenare No Devi riuscire A A gestirlo In senso che Se tu vuoi avere Perché ci sono amici Anche di calcio Puoi avere amici Che Come siamo noi Tipo noi In teoria Vai Ogni anno Cambi squadra Se cambi squadra Ogni anno Ogni due o tre anni Ci sono gente Con cui Quando sei in quella squadra Siete amici Amici Però appena tu Cambi squadra E cosa inizia ad andare Giù 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 Fino a quando Non c'è più E quelli capisci Che sono amici Di lavoro Poi amici Che hai fuori Che come ti ho detto Un PR Di un club Di un pub No? Che fa ogni giorno Serata Obbligatorio di fare Serata E se tu Giochi a calcio E vuoi fare La stessa cosa Sai che non funziona Per te Devi staccare Però Se uno È sempre presente Però Tu Devi lasciare lui Fare il suo lavoro E tu fai il tuo lavoro Poi quando finisce il suo lavoro E tu finisci il tuo lavoro Potete parlare Però non devi Non devi Non devi mettere te stesso In Per quello che dico Ogni tanto mettiamo noi stessi prima Io per una cosa Mi metto Il mio lavoro prima Me stesso prima Perché io so che dietro di me Ci sono 150 gente Che Mi stanno tenendo La maglietta da dietro Che Contano su di me Non li posso fallire Allora se trovo un amico Che così Le dico Va bene Quando c'è da fare serata Facciamo serata Però quando c'è da parlare Le cose serie Se lui non riesce A parlare seriamente Con te Sicuramente hai un altro amico Con cui puoi Parlare Certe cose Non mi puoi dire Che hai solo un amico Impossibile Abbiamo tipo Due o tre amici Che ci sono amici Per andare in discoteca Come ci sono amici Per parlare di calcio Però Per dire Ci sono amici Per tutto Non Come dicono Un DJ Non può essere amico Di Un Non lo so Uno che fa box Può essere utile per lui Per fare certi mix Di canzoni Che lui usa Quando Deve preparare Per allenare Però Cosa può dare Quello lì Che fa box A uno Che è un DJ Niente Però Il supporto c'è Per dire Dai Non devi mollare Certe così Poi io ti posso Mandare qualche canzone Che ti motiva Anche se Non fa niente Però So che Quello che sto per dire Che sto dicendo È che Abbiamo amici per tutto Penso Abbiamo amici per tutto Tipo Se voglio parlare di calcio C'ho Chi posso parlare Se voglio parlare di Di famiglia So chi posso parlare Con chi posso parlare Però Non puoi avere un amico Che Con cui puoi parlare di tutto Poi se vedi Se vedi uno Che ti porta nel butto La strada Sei tu che devi decidere Se lo vuoi continuare A seguire Se ti va bene Se no Staccare però Non staccare Per dire Guarda Lo dici Guarda Questa strada Non fa per me Siamo amici Però c'è momenti Oltre alle lezioni Che hai imparato Dai fallimenti Dagli errori Comunque che hai fatto in passato Quali sono Altre lezioni di vita Che ti senti di condividere Con noi E con chi ti sta guardando In questo momento Per Per imparare Comunque magari potrebbe Qualcuno potrebbe anche Aver affrontato Una situazione simile Dalla tua Come potrebbe rialzarsi Grazie a questa Questa lezione Lezione di vita Non lo so Personale Personale Ovviamente Tu Sto pensando Infatti Sto pensando Però Non Non viene niente Però L'unica cosa Che Posso sempre dire Se hai Se hai le persone Che Se hai le persone Giuste Accanto a te Ti aiutano a salire Quando Non ce la fai Quando ti succede Certe cose Nella vita Capisci veramente Che Non puoi mollare Non puoi mollare Puoi andare A certo punto O posto Ti dicono Eh non ce la fai Non ce la fai Non ce la fai Però Sì non ce la faccio Sono arrivato qua Quello che mi ha aiutato A arrivare qua Mi aiuta anche Di andare avanti Allora continui Però Come dicono Quando vai A fare Come si dice Se tu hai Un problema mentale E tu vai a dire Ti chiedono Perché sei venuto Tu dici Sì sono venuto Perché c'ho Un problema mentale Appena capisci Che hai bisogno Di aiuto Lì puoi migliorare Perché appena sai Che certe cose Non riesci a fare Lavori Per Riuscire a fare Quella cosa Fatemi Una cosa Interessante Quindi quando capisci Che hai bisogno Allora Lì che migliori Quando capisci Che hai un problema Allora Puoi migliorare Cioè Quindi uno Ovviamente uno Se pensa di essere perfetto Di non aver bisogno Di niente È forte È bravo Ma c'è problema di testa Già senza sapere Non migliorerà Uno che pensa così C'ha già problema di testa Senza sapere Cioè quindi Quindi per poter migliorare Secondo te L'approccio migliore Cioè che mentalità Bisogna avere Per migliorare Ogni giorno Cioè noi Il podcast Il canale Lo chiamiamo 1% Nel senso che basta Anche solo 1% Ogni giorno Per migliorare Qual è secondo te L'approccio La mentalità Ideale Che bisogna avere Per migliorare Sempre Eh ma dicono Che uno C'ha il suo idolo Poi nella tua testa C'hai Uno che Dici Non voglio Vorrei essere Come lui E allora Se non ti aiuta Tipo Anche guardando Seguendo Il suo modo Di fare la cosa Allora devi trovare Tu Il tuo modo Se io seguo La vita Di mio idolo Chi è? Igalo Igalo È un giocatore Nigeriano Giocava nel Watford Giusto? Sì giocava nel Watford Sì Segui la sua vita Fino a certo punto Puoi Imparare Impari certe cose Poi Sai anche Che la tua vita Non può andare Come la sua Devi accettare Anche Come sta andando La tua E devi lavorare Sui tuoi difetti E da lì Migliori Quello che è tuo È tuo Quello che è suo È suo Puoi solo seguire Però Se non funziona Se una cosa Funziona per lui Non è detto Che funziona Per te anche Bellissimo È la seconda volta Che ho fatto questo consiglio La prima volta L'ho sentito Proprio da lui È avere una persona Di riferimento Una persona Che tu stimi tanto E che vuoi raggiungere I suoi stessi obiettivi Quindi segui il suo esempio Nel tuo caso qual è? Mi piace tantissimo Il punto che ha toccato Perché Ne avevamo parlato Tempo fa Ed è una cosa Che anch'io condivido tantissimo È che Molto spesso Quando tu non sai Cosa devi fare Lungo il percorso Avere qualcuno Che l'ha già fatto Ti spiega Sì 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 Quali sono gli step Di seguire Io Sono innamorato Di Kobe Bryant Ok Kobe Bryant come uomo Kobe Bryant come businessman Kobe Bryant Io ho scelto Ho scelto uno proprio Però Però come dici tu no? Tu non devi copiare La sua vita perfettamente Perché magari Qualcosa che è funzionato Per lui Per te non funziona Però ti dà Un disegno Certo Ti fa capire Certe cose da fare Tipo Se lui fa L'alimentazione Tu capisci che devi fare Una cosa del genere Se lui è uno Che lavora dura Per avere Per raggiungere Del suo obiettivo Tu capisci Che anche tu Devi lavorare Bravissimo Non si dice Che tu arrivi Alta come lui Però Sai che Hai messo L'impegno Realizzi La miglior versione Di te stesso Certo E Una cosa Che a me Piace tanto È che Ognuno Ha il suo percorso Certo Non dico Che devo andare In palestra Perché tu stai Andando in palestra Bravissimo Magari Una cosa Che per te funziona Per me non funziona Però Per me La cosa più importante Ogni giorno Che mi fa Migliorare ogni giorno Dell'1% È Quando vado a letto E sono lì Che mi lavo i denti Guardandomi allo specchio Sono fiero Dalla persona che vedo Sono contento Dalla persona che vedo Se la risposta è sì Dormi bene Prendo il cuscino Dormi bene Ma se quando Mi guardo allo specchio C'è qualcosa Che non va Tomorrow Domani Devo fare qualcosa di meglio Io esco da questa stanza Che sicuramente Sono migliorato in qualcosa È bellissimo Quindi innanzitutto Vi ringrazio Perché davvero All'eolo personale Vi ringrazio Perché sono tutti i consigli Che servono anche a me Vi ringrazio anche io Perché io Sto imparando Veramente Con queste chiacchierate Ascoltare Ma Prima hai detto una cosa Che avevo imparato da lui Anzi Hai detto più cose Che ho imparato da lui Poi hai detto altre cose Da cui Io sicuramente Ne uscirò migliore Dopo questa chiacchierata Ti ringrazio Spero che anche Chi guarda questo video Ne esca migliore E abbia imparato Qualcosa di nuovo Che possa migliorarlo E migliorare la sua vita È stato molto interessante David Perché con te abbiamo parlato Di Appunto Di delle cose più importanti Famiglia Amici Amore Fede Fede Fallimento Cioè quindi È bello Perché anche Io penso che sia un po' Capisco che poi Ovviamente È il tuo settore Però Limitarci solo a parlare Di calcio Forse Sarebbe stato Un po' limitante Invece parlare Proprio di tutti gli ambiti Perché la vita Non è solo calcio No 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 La vita è tutto quello Certo Tutto quello di cui hai parlato Fino ad oggi E anzi Hai ribadito più spesso Che sono proprio quelle Le cose più importanti Quindi Anche da un calciatore Si può imparare Veramente tantissimo Dalle sue esperienze Dalla sua vita Ti ringrazio Continuiamo a imparare Ogni giorno No continuiamo a imparare No davvero David Grazie mille No grazie a voi Lo sai come è partito tutto È partito tutto come una chiacchierata Grazie a voi veramente Grazie a voi Grazie davvero Perché hai condiviso Delle cose che in primis Al di là delle persone Che ci guardano Secondo me Arricchirà sicuramente Tutte e due Assolutamente Grazie Grazie di cuore Grazie a voi Mi sono divertito Mi fa piacere Spero che anche le persone Che ci hanno guardato Si siano divertite Vabbè E spero che tutti quanti Quando chiuderanno questo video Siano migliorati Anche soltanto Dell'1% E spero di avere la possibilità Di riavere migliaia di conversazioni Di questo genere con te Io ci sono quando voglio Grazie Grazie a voi Ci vediamo al prossimo episodio A presto allora Grazie mille Ciao raga Ciao a tutti 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 Grazie.